Grazie a tutti. Grazie direttore. Allora iniziamo subito a parlare dei temi di questa edizione Summer 2013. La Concezione italiana al centro del mondo. Iniziamo subito da questo focus, dalle parole del direttore Mercogliano, ovvero su qualità e certificazione. La qualità è sempre stata, almeno nel passato, una specie di autoreferenza dichiarata da chiunque e anche pubblicizzata. Per noi questa qualità invece oggi è certificata, cioè noi abbiamo deciso di spingere con la conceria italiana affinché acquisisse certificazione nel campo ambientale, nel campo della origine italiana, nel campo sociale, nel campo della qualità, cioè delle performance garantite al cliente. E quindi nel campo, generalmente parlando della sostenibilità, dell'etica come oggi suol dirsi. E con piacere, posso dire almeno le stime che abbiamo fatto a livello associativa, posso dire che il 40% del fatturato della conceria italiana proviene da aziende che hanno una di queste certificazioni collegate alle norme ISO, agli standard ISO internazionali accreditati in tutto il mondo. E soprattutto parliamo anche di numeri, stiamo parlando di un fatturato di circa 5 miliardi di euro, quindi direttore è veramente una cosa importante. Ma sì, diciamo che è importante perché anche se non dovremmo dirlo noi è impegnativa e ovviamente richiede un senso di responsabilità e un senso di sacrificio che soltanto un conciatore italiano innamorato della pelle, ma anche innamorato della occupazione delle famiglie che occupa nelle sue aziende può compiere. All'estero 2 più 2 fa 4 e se c'è un passivo si chiude, gli italiani no. Io ormai sono tanti anni che lavoro per i conciatori italiani, non li ho mai visti chiudere un'azienda, li ho visti sacrificare il proprio profitto, ma mantenere alta la bandiera della propria impresa, alto come dicevo prima il valore della pelle e dell'occupazione indotta. Ecco perché è una grossa responsabilità per quanto gradita, per quanto ben recitata quella di mantenere un fatturato così grande che non è uguale nel resto del mondo. Sempre di numeri, sono 1.330 le concierie, 18.180 se non sbaglio gli addetti, siamo a circa questi numeri direttore. Quindi un comparto molto importante soprattutto verso l'alto, l'alta gamma è il core business di questa Unic. Sì, l'alta gamma è diventata negli ultimi diciamo 10 anni la fascia più importante. Noi stimiamo che il 25-30% della produzione conciaria vada proprio all'alta gamma, quella che poi si identifica con le griffe, le case di moda. Naturalmente è una fascia che traina tutte le altre, quindi tutto l'insieme della conceria italiana viene rappresentato nel mondo come espressione di alta qualità, espressione di moda, in quanto comunque collegato a questo top di gamma. E continuiamo questa intervista con Salvatore Mercogliano, dottor Mercogliano, ricordiamo, amministratore delegato di Linea Pelle. Quest'anno appunto si annuncia questa edizione con una prospettiva primavera-estate 2013 molto importante. Abbiamo visto veramente tante novità, come ha detto lei poc'anzi, soprattutto nel settore ambientale. Senza fare nomi, abbiamo girato il gruppo Incas che hanno fatto qualcosa per la linea Baby. Questo è il futuro della concieria? Sì, sì, decisamente. La linea Baby viene scoperta anche dalle case di moda e ci sono conciatori molto lungimiranti, come la società da lei citata, che si sono buttati in questo settore che, ripeto, viene riscoperto. E che è un settore che più di altri richiede garanzia, richiede onestà. Perché c'è ancora davanti agli occhi quella serie di cronache di mesi fa, che i bambini nel Regno Unito sono deturpati da pellame di cattiva qualità. Che non appartiene al sistema italiano. Questo dobbiamo dirlo a alta voce, direttore. Eh sì, sì, diciamo un po' di orgoglio fa sempre bene. Non appartiene al nostro sistema, anzi devo dire che ci siamo buttati noi stessi nella ricerca di pellame di cattiva qualità. Per esempio la nostra associazione è in prima linea nella denuncia di merce importata da determinati paesi, tutti capiscono a quale paese ci riferiamo, in cui il pellame è veramente nocivo perché contiene sostanze vietate. E attraverso l'uso del marchio Verocuoio e Vera Pelle, che è un marchio di garanzia con tanto di requisiti e richiesti, che viene illegittimamente spesso impresso su queste merci che provengono dall'est. E attraverso questo marchio noi siamo in grado, siamo stati in grado, più di una volta di ottenere sequestri conservativi, di cittadini qui residenti ma insomma di origine straniera e quindi di fare anche non solo il nostro interesse ma tutelare il bene comune dei nostri consumatori a partire dai nostri ragazzi. Sempre su questo tema, direttore, abbiamo partecipato noi alla presentazione del Codice Etico promosso dalla Sessione Conciatori di Stato Conciatori sull'Arno. Secondo noi una cosa molto importante da poter allargare a tutto il comparto. Sì, dunque il Codice Etico indubbiamente è un traguardo per molti settori di oggi. Io posso ricordare che abbiamo stipulato un Codice Etico a livello di categoria nazionale proprio nello scorso giugno 2011 quando abbiamo chiuso il contratto collettivo di lavoro con i sindacati. Sapete che noi abbiamo un contratto nostro proprio dell'Industria Conciatori italiana e insieme con il sindacato stipulante abbiamo redatto un Codice che è stata la riedizione di un precedente Codice vecchio di circa dieci anni in cui con grande nostra soddisfazione abbiamo avuto una controparte che ha controfirmato il Codice Etico dell'Industria Conciatori italiana. Un bel traguardo e il traguardo è comunque esportare il prodotto finito di qualità. Quali sono le prospettive, direttore? Le prospettive direi che sono per una sempre maggiore esportazione da parte della Conceria italiana perché la manifattura italiana continua a restringersi e la stessa cosa sta avvenendo nel resto d'Europa. Mentre paesi in grande spolvero, da Sud America anche all'Asia, stanno scoprendo la qualità della pelle italiana e questo ovviamente per loro è un valore aggiunto perché gli consente di vendere non solo ai nuovi ricchi della nazione ma anche di esportare con maggiore sicurezza e con maggiore vantaggio un prodotto che ha una pelle che rappresenta il massimo. È il massimo, è proprio qui a linea pelle. 1047 sono gli espositori, suddivisi anche in vari comparti perché oltre alle concilie sono tutte le componenti importanti del prodotto finito per quanto concerne la pelle. Com'è la situazione di questa edizione, direttore? Dunque, noi abbiamo una mostra che in termini di numeri equivale a quella della stagione di riferimento cioè alla primavera-estate del 2011. Ci aspettiamo appunto un incremento di interesse da parte dei visitatori, dei compratori proprio per quell'osservazione che facevo prima cioè una creatività che i nostri conciatori, in particolare i toscani che sono celebri in tutto il mondo per questa qualità hanno fatto e faranno presentare i campionari. Ci aspettiamo in termini economici, in termini di numeri quindi ci aspettiamo una tenuta del mercato il che in una situazione internazionale come quella odierna è un ottimo risultato. È un risultato ottimo, sicuramente questo connobio molto importante fra linea pelle, ricordiamo, l'ambisatore delegato, il dottor Mercogliano e Bologna Fiere. Sì, con Bologna Fiere ormai il rapporto è consolidato da decenni di collaborazione, di comprensione, di disponibilità insomma ci sono stati molti avvicendamenti per quanto mi riguarda, presidenti, direttori generali li ho avuti tutti e chi in un modo e chi nell'altro hanno sempre mostrato la massima collaborazione. C'è un aspetto che oggi è più importante, più delicato del passato che è quello del calendario dove in effetti i quartieri firistici fanno molte difficoltà nell'accontentare le richieste di un settore, di un organizzatore firistico e soprattutto di un organizzatore firistico che come noi è legato mani e piedi alla moda è una moda che anticipa sempre di più, che è sempre più nervosa con case stilistiche, case di moda che non fanno più due campionari ma ne fanno persino sei all'anno e quindi una linea pelle deve seguire questo andamento così frazionato, così nervoso per cui il quartiere firistico deve avere la capacità di assecondare le nostre richieste. Come abbiamo detto all'inizio della nostra intervista noi siamo qua chiaramente cercando di onorare sempre di più la comunicazione per quanto concerne questa importante fiera ricordiamo linea pelle qui da Bologna a Fiere due parole direttore e soprattutto come amministratore delegato a tutti i nostri visitatori online ma soprattutto su Sky perché questa trasmissione andrà anche su Sky in cui raggiungeremo Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Bene, complimenti, allora a maggior ragione io sono lieto del fatto che tutti questi nuovi visitatori possano vedere la nostra manifestazione che voi sicuramente presenterete nel migliore dei modi e quindi complimentarmi con voi e soprattutto augurarmi che appuntamenti come questo con la vostra televisione, con la vostra rete siano più frequenti per metterci a disposizione di un pubblico così importante e qualificato come capisco voi abbiate.